Signor Marchese, mi sente? Sì, la sento. Dovrebbe parlare un po' più forte, un po' più vicino, perché noi la sentiamo... Sì, la sento. Va bene, va bene. Signor Marchese, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì, ho fatto parte di Cosa Nostra nell'80. Cioè è entrato in che anno in Cosa Nostra? Fine a 80. Ma vi è stata una cerimonia, una combinazione formale? Sì, è stata la storia del rito che vengo combinato con il punto nel dito e faccio parte della famiglia a cui vengo assegnato. Dove si è svolta questa combinazione, questa cerimonia? Allora, questa combinazione si è svolta a Tavilla Miliscia, in una villa di Salvatore Manescasco. In presenza di mio zio, Fino Greco e Filippo Alcano, che era stato mio padrino. Andrea Loiacono, Giovanni Loiacono e altre persone in questo momento. Vuole ripetere per cortesia, signor Marchese, quanto ha detto, perché non ho sentito bene, soprattutto i primi nomi che lei ha pronunciato, su chi era presente a questa cerimonia. Signor Marchese, per favore, parli un po' più vicino al mitofone e con voce un po' più alta. Vorrei rispondere. Sì, vorrei rispondere. Allora, era in presenza di Marchese Filippo, Fino Greco, detto Scarpocceggia, Filippo Alcano, che era il mio padrino, Giovanni Loiacono e altre persone in questo momento non ricordo. Signor Marchese, in quale famiglia è stato aggregato, è stato inserito, in quale famiglia mafiosa di Cosa Nostra? Ho fatto parte della famiglia di Cosa Nostra e capeggiata del rappresentante di Marchese Filippo, mio zio, il mandamento Ciaculli e all'epoca Michele Greco. Quanti anni aveva quando è stato combinato in Cosa Nostra? 17 anni. Ci sa riferire altri componenti, la famiglia mafiosa di Corso dei Mille, che lei ha conosciuto? Ma io, il componenti della mia famiglia, il componenti della mia famiglia, eravamo una cinquantina. Io posso elencare quelle che sono, c'era I Spadaro, c'erano Senapa, c'erano I Senaga, c'erano Bayamonte, c'erano I Penedello, e Tagliavia, il Presse Perippo, il Greco, il Malescarco, il Graviano, il Savoca, eravamo in tante. L'ha già detto, signor Marchese, se non puoi ripetere, chi era il capo di questa famiglia mafiosa? Il Corso dei Mille? Sì. In quel periodo che c'ero io, ero in libertà, era Marchese Perippo. E successivamente? Successivamente è stato Tenerello Gaetano. Questa famiglia lei ha detto che era inserita in quale mandamento? Di Sciaculli. Ecco, invece il capo del mandamento chi era all'epoca? All'epoca era Michele Greco. Successivamente? Successivamente è subentrata a Pino Greco. Di Pino Greco è subentrata a Vicenzo Puccio. Puccio è subentrata a Lucchese Giuseppe. Di Lucchese è subentrata, sosteduto di Areano Giuseppe. Quali altre famiglie facevano parte di questo mandamento, signor Marchese? C'era Corso dei Mille, Roccella, Biancaccio, Ciaculli, Bermonte Menzagno. Questa era la famiglia. Fa dire chi rappresentava queste famiglie, chi era rappresentante di ciascuna di queste famiglie? Il rappresentante della Roccella c'era all'epoca Giuseppe Appadre, Biancaccio c'era Pino Savoca, Ciaculli c'era Michele Greco e il Corso dei Mille, Marchese Filippo. Signor Marchese, quali attività criminose ha costruito per Cosa Nostra, nell'ambito di Cosa Nostra? Cioè lì che ruolo aveva in primo luogo in Cosa Nostra? Come? Che ruolo aveva in Cosa Nostra lì in primo luogo? Allora, io quando sono stato iniziato, sono stato iniziato in quanto dovevo essere un uomo riservato per conto di Tottor Reina e Leoluca Bagarella. Successivamente, le persone che si frequentavano con mio zio, gli era difficile a non presentarmi a altri uomini d'onore. E quindi quali attività criminose in particolare ha svolto per Cosa Nostra? Omicidi. Lei ha parlato di Leoluca Bagarella e Rina Salvatore. Che rapporti aveva con queste persone? C'era... Bagarella Leoluca era mio cognato, sposato con mia sorella, Tottor Reina, cognato di Leoluca Bagarella. Signor Marchese, la sua ingresso in Cosa Nostra? In quali periodi è stato detenuto? Dall'18... 15... 1982... E fino a quando è stato detenuto? Fino a 92... E dopo sono stata struttura estracarceraria, è il momento in cui iniziato a collaborare. E quando è iniziato a collaborare? Ricorda il... Agosto 92... Vuole in modo sintetico riferire al tribunale i motivi per cui è iniziato a collaborare con la giustizia di servizio? I motivi per cui è iniziato a collaborare in quanto non condividevo più le regole di Cosa Nostra e le strategie che usava Cosa Nostra diciamo per mettere fuori giochi altri uomini d'onore o anche per uccidere gente che non c'entravano niente e scaricare la colpa su altre persone e anche negli ultimi tempi quando sono messi a verificare anche tutte quelle stracce. Pariero, queste strategie utilizzate da Cosa Nostra per mettere fuori gioco altre persone se vuole essere più chiaro? Ma... Vedi... Cosa Nostra purtroppo io quando iniziai a far parte mi hanno... come... mi ho preso io e mi spiegavano quali erano le regole di Cosa Nostra che c'era molto rispetto fra di noi e c'era sincerità ma via... mi riscorrendo in tutte queste cose vedevo che praticamente c'era anche un fuggi-fuggi nel quello che si faceva o si doveva eliminare una persona prima si usava nel... in Cosa Nostra e dopo veniva limitato oppure veniva scadecata la colpa ad azione uomini d'onore perché un domani dovevano essere anche eliminate. Può riferire un episodio, un esempio concreto di quanto sta dicendo? Ma... episodio... episodio io posso riferire quello che mi costa personalmente a me quello di... di Buccio Vincenzo che ne... che sono stato anche l'autore dell'omicidio di Buccio Vincenzo prego, prego Buccio Vincenzo non condivideva più le regole di Cosa Nostra in quanto c'era Dottor Reina con diciamo gli uomini suoi fidati che tiravano il pulino soltanto per loro e non pensavano anche agli altri con l'onore in quanto erano gente che praticamente dovevano essere abbracciati anche un domani io mi ricordo che nel 1981 quando fece anche parte nel periodo quando è scoppiata la quella diversi capi mandamento che hanno partecipato con noi in diversi omicidio a livello di quella di Cosa Nostra che non c'era il fatto di ammazzare i centri innocenti non c'entravano niente era una guerra aperta fra fra noi fra uomini d'onore io mi ricordo che c'era mio zio che era un altro elemento diciamo forse emergente di conlionesi vino greco anche c'era Salo Riccobono era anche un'altra persona che era dalla parte nostra c'era Toto Scaglione che era un'altra persona che era dalla parte nostra insomma molte gente che era vicino a noi piano piano dopo che Toto Reina le ha usate nella quella noi stessi noi stessi diciamo della corrente vincente abbiamo ucciso anche queste persone che praticamente Toto Reina ormai erano persone che non gli servivano più allora usavano delle persone e dopo me ne avevano fatte fuori signor Marchese ritornando all'omicidio di Puccio Vincenzo che lei ha detto che lei ha commesso giusto? sì quando è avvenuto questo omicidio? 89 e dove è avvenuto? a lui Cerdone ecco vuole spiegare perché non mi è stato molto chiaro i motivi per cui lei ha ucciso Puccio Vincenzo come è andata insomma anche se è molto simpetito diventemente Puccio Vincenzo praticamente nel momento in cui è stato riarrestato che lui all'epoca leggeva il mandamento di Ciaculli con Bagarella mio cognato che stava in caccia anche insieme a noi lui ha spesso delle delle lamentere nei confronti di Toto Reina e anche altri uomini d'onore che si lamentava che Toto Reina faceva due pese e due misure c'è con chi aveva più affidamento o c'è con chi avevano gente diciamo che venivano usate sfruttate e dopo eliminate e che essendo che Puccio era stato fuori sapeva tutto tutto perché Puccio era un momento in cui stava fuori che era la stessa corrente di Toto Reina la cosa era a suo favore il momento in cui è stato in caccia lui sapendo anche i mali fatti che faceva insieme a Toto Reina ha capito praticamente che i mali fatti che faceva insieme a Toto Reina ha capito praticamente che per lui non c'era più speranza non c'era più speranza perché ha visto che il suo mandamento non lo non lo non lo non lo teniva più informato di tutto quello che avveniva e lui si è lamentato con Toto Reina che voleva fare un confronto nei confronti di Toto Reina e Puccio voleva fare un confronto nei confronti di Toto Reina anche mio fratello Marchese Antonino che ripeto che Toto Reina ogni famiglia dei mandamenti ci mette sempre i loro infizzati mio fratello pensando che essendo che Puccio aveva questa intenzione di fare questa rivolta nei confronti di Toto Reina prima che arrivassero altre persone a far sapere a Toto Reina il confronto che c'era mio fratello ha fatto sapere a Toto Reina l'intenzione di Puccio e così si è messo in funzione un macchinario praticamente di eliminare tutte le persone che Puccio a quell'epoca aveva affiliato come mai fu assegnato a lei il compito di uccidere Puccio Vincenzo in carcere materialmente ha ucciso Puccio Vincenzo non sono stato io però materialmente sono anche diciamo partecipe anche nel tutto il confronto dell'omicidio Puccio in quanto la strategia per eliminare Puccio perché a parte Puccio si doveva eliminare nel 3 calcio altre 4-5 persone che erano dalla stessa corrente di Puccio e se è stato diciamo un segnale di avviamento più preso possibile che prima che Puccio potesse uscire dal caccio di eliminarlo dentro il caccio e questa strategia per eliminare altre persone andò in porto poi cioè furono eliminate queste persone queste altre persone vicine al Puccio ma le persone invece a Puccio sono state soltanto eliminate prima che a lui venesse ucciso sono state eliminate altre persone che stavano all'esterno del carcere diciamo erano del gruppo che è riservato di Puccio Vincenzo di cui c'era anche Agostino Francesco Agostino Mannoio il fratello di Francesco Marino Mannoio Signor Marchese nel corso della sua collaborazione oltre di questo omicidio si è accusato di altri reati? Io ho accusato di altri reati io mi sono accusato di tutti gli omicidi che praticamente ho commesso nell'inizio in cui ho iniziato a far parte di Cosa Norsa Ecco vuole ricordare alcuni di questi omicidi di cui si è accusato? A parte delle lupare bianche all'omicidio da Inserito Salvatore e Bontà di Stefano e via di Scorrello Quali condanne definitive ha riportato Signor Marchese? Allora io c'avevo mentre che stavo in caccia c'avevo la condanna definitiva prima che morisse Pugge c'avevo la condanna definitiva quella riguardo la cosiddetta sagge dell'81 quando morirono di fosse Petalrese De Pere Siamo Marchese? Sì quindi questa era l'unica condanna definitiva che aveva all'epoca io ho avuto una condanna definitiva a 30 anni un'altra condanna definitiva dal manche di processo per l'associazione mi sembra che era 4 anni quella dell'omicidio Pugge lei Caspro Signor Marchese per quanto a sua conoscenza per quanto ha sentito in ambiente di Cosa Nostra sa se vi erano degli esponenti di Cosa Nostra che operavano nella città di Milano uomini d'onore che operavano nella città di Milano c'erano diversi uomini d'onore a cominciare dai fratelli fidanzati ai Ciulla Taneno Carollo diversi uomini di quelli che mi ricordo io in particolare sono questi di qua ecco vuole precisare i nomi di queste persone a quale famiglie mafiosi appartenevano queste persone che lei ha menzionato allora i fidanzati appartenevano alla famiglia di Polognetta a cui il capomandamento era un po' buono Taneno Carollo apparteneva alla famiglia di De Sultana a cui il capomandamento era Francesco Madonia dopo c'erano anche i fratelli Martello che erano anche molto operanti a Milano appartenevano anche nella famiglia di Polognetta e uno apparteneva nella famiglia di San Giuseppe altri diciamo la base la base a livello operativa a parte che c'erano anche i familiari erano anche trapiantati là a Milano ma avevano anche diciamo la base operativa a livello anche di tappici di droga il riciclaggio tutto quello che diciamo era poteva essere un vantaggio per Cosa Nostra ecco ma dico ma in quale periodo c'è negli anni 70 80 90 allora io posso parlare dall'80 che c'era io mi ricordo che ho frequentato quel periodo Danilo Carollo che era una persona quello che è stato ammazzato a Milano che era una persona che c'era molto tarisma una persona molto molto importante in Cosa Nostra da quel periodo dall'80 fino agli anni del 90 così ma sa se o ha saputo se queste persone che ha menzionato operavano a Milano già negli anni precedenti al 1910 gli anni precedenti c'hanno sempre di quello che mi costa a me è stato Milano anche una città bassistica per Cosa Nostra in quanto dei periodi di Luciano Leggio di Giardano D'Abbette di altri esponenti di Corso Calato di Cosa Nostra erano erano diciamo Milano era come una una fase una fase d'oro qua ma come ha saputo queste cose lei si è mai recato a Milano ha mai visto queste persone a Milano o gli hanno riferito queste circostanze queste sono cose che sono state riferite da chi da chi li ha prese da Luciano Leggio che ci sono stato anche in caccia con Luciano Leggio da Bragarella mio cugnato da mio fratello d'aggiume d'onore anche da fidanzate Caetano dai Ciulla che i Ciulla abitavano a Milano i Ciulla sono stato anche in detenuto con me i Ciulla spesso quando i miei familiari mi venivano a fare il colloquio a caccia di Poghiera i miei familiari quando arrivano a Milano si appoggiavano in una familiare qui a Milano di gente mafiosa venivano presi all'aeroporto accompagnati a caccia di Poghiera se non trovavano a loro certe volte prendevano anche il tassino ma c'erano sempre sempre d'appoggi c'erano per esempio anche i Catanesi Gemmiano c'erano dei gruppi Catanesi che erano appoggiati anche a Milano a livello anche base che avevano a Milano hanno sempre avuto a Milano Signor Marchese prima di parlare di quest'altro aspetto che lei ha pure annunciato questo delle famiglie dei Catanesi Iciulla il nome del battesimo di questi Iciulla che era definito sì vi ricordano? Iciulla ci sono che erano cognate di Danilo Carollo c'è Antonino c'è Salvatore c'è la Cesare ma lei sa quali attività svolgevano questi esponenti di Cosa Nostra nella città di Milano nel territorio di Monano? c'era Carollo mi sembra che era lui si occupava anche di costruzione si occupava di grande trafici internazionale di trova quindi come attività criminose di che tipo? trafici trafici sostanze stupefacenti? sì si sa se organizzavano anche sequestri di persona questo esponente di Cosa Nostra è Milano ma sequestri di persone io come riporti sequestri di persone che c'è stato un periodo con Luciano Liggio che era qui a Milano che si occupava di questi sequestri ma quanto riguarda Carollo e questo non mi risulta no signor Marchese lei ha detto che operavano in Milano anche esponenti di Cosa Nostra delle famiglie di Catania sì vuole precisare chi sono queste persone chi erano queste persone che operavano a Milano ma queste persone che operavano a Milano erano diciamo il gruppo avversario di Santa Paola che Gimimiano Asaro Illuminato Rantonio Ninufano Marano diversi di questi uomini d'onore che praticamente con Pagarella sono state sempre in buon rapporto con tutto ciò che avevano la spaccatura con il suo Santa Paola Pagarella aveva con loro spesso divesse corrispondenza anche quando si trovavano in carcere e nell'ultimo periodo quando lui era uscito da caccia Pagarella ha avuto diversi incontri qui a Milano con Gimimiano che si trovava lui in stato della retanza Pagarella è venuto diverse volte a farci il colloquio al caccio di Pagarella e c'è stato un periodo che anche questo come sempre che era stato D'Antonio aveva chiesto di poter incontrarsi con Pagarella che aveva bisogno di pallaglie di determinate cose non so di chi però se lo farei va bene allora il promessivo può proseguire mi sente signor Marchese si la sento ecco lei mi stava parlando di queste appartenenti alle famiglie mafiosi di Catania io volevo farle prima una domanda lei ha detto che queste persone operavano in Milano ma in che periodo operavano in Milano queste persone il periodo che io mi trovavo in carcere con me in carcere c'erano Nuccio Miano che era fratello di Jimmy Miano diciamo che era la mente Jimmy Miano dei Catanese dopo c'erano mi sembra che è stato nell'88 che ho avuto un rapporto diretto con queste persone cioè lei lei li ha conosciuti in carcere nel 1988 sì nell'88 e chi è conosciuto oltre Nuccio Miano ha stato illuminato D'Antonio D'Antonio come? come si chiama? Orazio e poi chi altro? Nino Paro c'era Nino Marano pure che erano quelle dei killer dei cacceri prego in questo momento non mi ricordo c'era c'era Andraussi Santo Ducci diciamo che erano gruppi anche alleati con loro mancato che hanno avuto anche delle convergenze anche nel periodo quando hanno avuto una sparatoria qui nella Lofonchia di Milano Senta signor Marchesi in quale carcere eravate detenuti in quel periodo nel 1988? Quando ho conosciuto queste persone in quale carcere eravate tutti detenuti? Nel carcere Vogliera Ricorda il motivo per cui erano detenuti Asero Illuminato ed Antonio Razio? Quel periodo che sono stato quando io sono stato nel carcere Vogliera dopo sono successivamente sono arrivato anche loro nel 88 mi sembra 88 e dopo la detenzione l'hanno fatta insieme con noi in quel carcere diversi anni sono rimasto là mancato che facevano avanti indietro quei processi Ma eravate detenuti in una stessa cella oppure non? No eravano tutte celle singole però si andava all'area assieme e si faceva anche la socialità due volte al giorno con un altro detenuto e potrei scegliere quello detenuto con cui potrei fare la socialità E quindi lei in queste occasioni ha avuto modo di parlare con queste persone? Sì, sì come no si faceva gennastica assieme si faceva socialità si facevano si stavano quasi tutti i giorni assieme Siamo Marchese queste persone adesso magari ci specifica chi le raccontarono qualche episodio specifico sulla loro attività a Milano? La loro attività è quella sempre dei traffic che si gioca e a parte omicidi che organizzazioni che avevano loro qui di Catania e di Torino e Milano praticamente di specifico specifico no io di specifico quello che mi passa a me praticamente è questo quello dei traffici di gioca gli incontri che vogliono fare cioè quello del fatto quando parlavamo del sequestro del tempo fa nel periodo nel 88 si parlava avanti che loro avevano intenzione di sequestrare il figlio di Berlusconi cioè loro le dissero che avevano intenzione di sequestrare il figlio di Berlusconi si il discorso è questo allora nei varie cacce dove è che uno sta si incontra con varie cacce dove è che uno sta si incontra con diversi uomini d'onore o gente di famiglie e si parla del più del meno parlando con loro che c'era D'Antone c'era anche mio fratello Marchese Antonino parlando di più del meno c'è stato che Asolo illuminato se ne uscì con questa frase dicendo che noi pala in metano un giorno eravamo intervenuti per non far sequestrare il figlio di Berlusconi perché era una cosa che interessava a noi a noi paesani non ho capito quindi Asolo illuminato che cosa le disse Asolo illuminato ha detto che il suo gruppo il loro gruppo cioè il gruppo di Gimmi Miano avevano avuto non lo so il periodo non lo so quando è stata questa cosa che loro avevano progettato però si parlava e si parlava di vari argomenti non c'è un periodo fisso di quando si parlava perché si parlava di cose vecchie anche quando erano a Catania quando erano fuori eccetera e mi disse che praticamente loro il loro gruppo avevano intenzione di sequestrare il figlio di Berlusconi ma che c'è stato l'intervento dei paesani nostri sarebbero di cosa nostra di palimetane che diceva che erano le persone che interessava loro e non se doveva fare questo sequestro e quindi praticamente questo sequestro questo programmato sequestro non fu più fatto per l'intervento dei paesani vostri ma che cosa volevano dire con la frase che Berlusconi interessava voi i paesani vostri insomma a chi si riferiva in particolare ma cosa si riferiva si riferiva se lui parla dei paesani nostri deve essere a livello cosa nostra di palermo i con leonesi che se loro prima che fanno un sequestro prima vedono su peggio in che città loro diciamo frequentano vedono su peggio chi potrebbero essere persone che potrebbero essere interessate perché ma in tutte le persone che hanno un certo potere un certo finanziamento eccetera si vede su peggio chi potrebbero essere persone che potrebbero stare dietro a questa persona di copertura o che potrebbero fare anche destorto ad altri uomini d'onore che potrebbero essere anche amici loro quindi voglio dire questo questo fatto che Berlusconi interessava i palermitani alla fine che cosa significava per quanto lì ha potuto capire per quanto ne sa senti che lo scuderemo è un po' diciamo della difesa cerco di capire cosa significa cosa nostra in termini interessava a qualcuno questa era la mia domanda ciò mi chiede se vuoi rispondere cosa significa in base alle sue esperienze di cosa nostra evidentemente questa espressione cioè che Berlusconi interessava i palermitani ma io ci porto un esempio facilissimo se io ho un mio parente o un fratello che deve lavorare e cerca un lavoro e io conosco un articolo sportivo che sono amici miei ci dico ci dico a questo dell'articolo sportivo e dico senti questo è mio fratello te lo prendi per lavorare io ho una persona che interessa a me quello che sai che una persona che interessa a me se lo metta a lavorare in caso di Berlusconi io posso pensare che c'erano delle persone di cosa nostra che avevano contatto e direttamente con lui direttamente e che se loro facevano un sequestro del genere o si poteva creare una guerra o si poteva creare uno sgarro nei confronti di Palametano se c'erano un buon rapporto a parte quello che ci ha riferito adesso le persone con cui ho parlato quindi Aser Illuminato e gli altri specificarono in che cosa consistevano i rapporti tra Berlusconi e i Palermitani di dietro qualche altra informazione le dissero qualcosa in più quello che mi ricordo sono queste cose se lo vuoi ripetere signor Varchese quando è avvenuta questa conversazione in carcere con queste persone io di preciso nel periodo che sono stato in carcere con loro è stato nel periodo del 88 però di preciso quando è avvenuta questa conversazione di preciso non lo so ecco ci vuole ripetere quasi tutti i giorni assieme ma non mi ricordo di preciso ecco come periodo nell'88 è indicato nell'88 in poi siamo stati sempre nel caccio di moghiera a parte qualche processo e ci si allontanava per qualche processo a queste conversazioni in particolare se lo ricorda a questa conversazione di cui ci ha riferito il contenuto chi era presente se lo vuole ripetere il Marchese Antonino mio fratello è stato illuminato ed Antonio senta a parte questo fatto lei la confidenza di altri appartenenti a Cosa Nostra nell'ambiente di Cosa Nostra l'ha saputo altri fatti riguardanti Berlusconi no signor Marchese si ricorda quando ha riferito per la prima volta ai magistrati questo episodio di cui ci ha parlato non mi ricordo quando è stato dichiarato questa cosa quindi non ricorda se io mi ricordo che c'è stato un periodo siccome io di politica non me ne intendo completamente niente però di farci diciamo avendo la mentalità di Cosa Nostra pensavo soltanto che quando c'è stato il periodo perché noi spesso quando c'erano delle votazioni si cercava di dare dei voti o al DC o al partito socialista o al Ciorrente diciamo si davano vote a quelle che interessava a Cosa Nostra diciamo per quello che si parlava quasi d'onore diciamo la corrente politica Cosa Nostra è stata sempre un punto forte per diverse attività io mi ricordo che c'è stato un periodo che quando si stava candidando Berlusconi per il fatto che spesso affacciava in televisione dicendo che lui stava formando questo gruppo Forza Italia perché spesso era sempre in televisione io ricordando questo particolare che si era verificato con Asere Illuminato da mentalità diciamo di Cosa Nostra ho pensato che c'era qualche cosa di movimento all'interno di Cosa Nostra e che stavano portando avanti questa linea però di specifio questa è una mia deduzione in tutto questo però sempre a livello di mentalità a quello che mi passava a me in Cosa Nostra ho capito signor Marchese lei ha conosciuto Mangano Vittorio come? ha conosciuto Mangano Vittorio sì ho conosciuto ho conosciuto che eravamo in caccia assieme quando? che periodo? nel periodo del manchese processo in quale caccia? sono un padre l'arte siamo stati in diverse altre caccia per esempio che eravamo nel caccia del Trane nel caccia del Trapane e nel caccia del Valembo ma Mangano Vittorio fa parte di Cosa Nostra per quanto vi sa sì fa parte della famiglia di Portanova e questo come l'ha saputo? mi è stato presentato e l'ho saputo anche da c'è un onore non ricorda non ricorda da chi è stato presentato non me ricordo signor Marchese lei ha conoscenza dell'esistenza della famiglia mafiosa di Malaspina o Cruillas forse forse non ha sentito vorrei ripetere la domanda sì signor Marchese si si sente? sì si la sento ecco gli ho domandato forse non si è sentito se lei ha conoscenza dell'esistenza della famiglia mafiosa di Cruillas o Malaspina quindi non me ne ricordo in questo momento ha conosciuto un tale di Napoli Pietro no no tale Cina Gaetano no no senta signor Marchese tra appartenenti a Cosa Nostra ha sentito parlare o da appartenenti di Cosa Nostra di Dell'Utri Marcello no lei ha in precedenza parlato di suo zio Marchese Filippo era suo zio giusto? sì sì che rapporti aveva suo zio con Bontate Stefano e i fratelli Grado ma vede i rapporti che che mio zio ha sempre avuto con queste persone di quello che mi costa a me di quello che me ne parlavano anche altre persone anche nel periodo di detelezione che che mio zio era una persona abbastanza corta e aveva un certo carisma anche all'interno dell'organizzazione e diciamo e anche neanche anzi anche nell'istituzione diciamo un buon aggancio aveva i suoi buoni agganci però di quanto riguarda Stefano Bontate io mi ricordo poco e niente mi ricordo soltanto in periodo quando è stato ucciso Stefano Bontate però che rapporti che c'erano io so che c'erano buoni rapporti però di 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 persona non non saprei dire Sio Marchese sa se suo zio Marchese Filippo si è mai recato a Milano si recava spesso a Milano allora io c'è stato un periodo che sono stato con mio zio a Milano nel periodo in cui mio padre si doveva operare per un'operazione che doveva subire alla gola e siamo andati alla clinica di Milano si chiamava il centro tumore e la mia clinica Milano che era mi sembra quasi vicino a Piazza Tuomo a quell'epoca noi ci siamo appoggiati e siamo venuti su io mio zio e mio padre e hanno parlato con un professore si chiamava se non vale errato un professore Bocca professore Bocca e di cui mio padre è stato operato e in quella clinica siamo stati se non 15 giorni perché a parte le cure e diciamo i controlli dopo l'operazione mi ricordo che mio padre si è incontrato con diversi uomini d'onore qui a Milano ancora io non ero era un ragazzino non mi ricordo se c'erano 15 o 13 anni e io mi ricordo che a quell'epoca c'erano diversi uomini d'onore qui anche a nei fatti di questa diciamo clinica dove si era operato mio mio padre e che a Milano si diciamo c'erano dei confinanti tra cui anche un certo Anasio diciamo un altro che notò giù la montagna per Filippo che loro avevano diciamo come base lo scaro ortofruttico un altro posto dove si incontravano diverse palemetraniche io ci sono andato con mio zio un paio di volte là che ci veniva a prendere questa totoprice a montagna e si incontrava con diverse persone però io non so chi potevano essere queste persone ho capito ma sa il suo zio Filippo Marchese ha avuto rapporti con De Tutri Marcello no io non me ricordo non me ricordo proprio Filippo Marchese lei prima ha parlato di questa indicazione di voto da parte di Cosa Nostra di votare per la DC per il PC eccetera eccetera ricorda parlavo delle indicazioni di voto di come votare le elezioni ah sì ecco vuole approfondire questo argomento cioè Cosa Nostra dava delle indicazioni su come votare le elezioni ma io mi ricordo che quando c'erano delle elezioni all'interno di Cosa Nostra si spangeva la voce a chi è che si doveva portare all'elezione c'è stato anche un periodo che diciamo gli uomini d'onore delle borgate di Palermo organizzavano delle dei gruppi dei ragazzi con delle spazizioni di pacche di pasta per il modo che la gente votasse per questa diciamo per quelle elezioni che praticamente si volevano nel periodo in cui lei è stato in carcere signor Marchese ne sono arrivate pure indicazioni di questo tipo da parte di altri appartenenti a Cosa Nostra cioè su come votare io mi ricordo c'è stato quello del se non va derrata del 88 87 mi sembra quando c'è stato quello del socialista cioè che significa il partito socialista che si doveva votare per il partito socialista e da chi venne questa a quell'epoca anche che noi ci trovavamo a Luciardone abbiamo spasso anche voce o gli uomini d'onore o la criminalità è comune chi è che poteva andare a votare dentro il carcere di votare per quel partito il socialista ma da chi veniva questa questa indicazione quest'ordine di votare così queste indicazioni venivano dall'esterno chi è che andava a colloquio venivano dall'esterno dopo quando si trovava all'aria si spaggiava voce a chi è che si doveva notare i voti ma lei chi è se a qualcuno ha mai saputo chi è che aveva deciso di votare in questo modo all'interno di questa nostra senti io mi ricordo che a quell'epoca si parlava all'aria c'era Pagarella c'era Piroleccio c'era Giovanni Pollarà Giovanni Pontate c'erano all'aria si parlava di votazioni però approfondimento a scende nei particolari non si ci andava mai perché già c'erano persone dietro le quinte che seguivano questa cosa a chiedare voti diciamo che potevano essere a favore nostro signor Marchese lei ha conosciuto Buscetta Tommaso no no ma sai chi è Buscetta Tommaso Marino Mannoio Francesco si l'ho conosciuto in caccia faceva parte di Cosa Nostra faceva parte del mandamento di Santa Maria a Gesù Calderone Antonino no non l'ha mai sentito nominare all'interno di Cosa Nostra è un altro collaboratore lo sentito nominare tramite giornale ho capito Ganci Calogero Ganci Calogero è figlio di Raffaele di Ganci e chi è Raffaele Ganci? è rappresentante della Noce e quindi Ganci Calogero faceva parte o no di Cosa Nostra per quanto li sa un uomo d'onore della Noce Anselmo Francesco Paolo anche a lui un uomo d'onore della Noce Galliano Antonino come? Galliano Antonino Galliano Galliano si se ne dice qualcosa questo nome mentre in pagheria quello che ricorda non posso non mi dice niente la marca Francesco perché c'è mi sembra che un Algano Galgano di Antonino che è di pagheria però non so se sia quello le ho chiesto anche di la marca Francesco signor Marchese la marca la marca Francesco no Zerbo Giovanni come? Zerbo Giovanni no Cucuzza Salvatore un uomo d'onore di di Carlo Francesco di Carlo Francesco era un uomo d'onore della famiglia di alto fondo lei l'ha conosciuto personalmente l'ha sentito nominare ma io se non va l'ho visto qualche volta ma quando eravo molto ragazzino nel periodo in cui si era fatto il De Gallo erano molto in quel periodo ci si frequentava Onorato Francesco l'ha conosciuto Ferrante Giovanni Battista no Pennino Gioacchino no no Carra Pietro no come ha detto Carlo Pietro Carra Carra Pietro no no di Filippo Pasquale cognato di Marchese Antonino fa parte di Cosa Nostra di Ciaculle Spataro Salvatore l'ha conosciuto signor Marchese Spataro Spataro Salvatore no Ienna Giovanni no Mancini Antonio questo Spataro Salvatore e Stuenna Giovanni io vuol darsi che le conosca queste però non le so dire ma Siamo Marchese altre poche domande con tutto il mio esame ma Cosa Nostra aveva a disposizione armi Cosa Nostra è stato sempre in disposizione di armi sempre voglio dire ogni uomo d'onore aveva delle armi proprio oppure sono armi che erano in comune a tutta Cosa Nostra ogni famiglia ma ogni famiglia ogni capomandamento ogni che deve essere diciamo nel mandamento componente 4-3-2 famiglie ogni famiglia c'è il suo diciamo assenale di armi ecco per quanto riguarda la sua famiglia lei ha mai utilizzato armi per compiere omicidi che appartenevano a Cosa Nostra sì io l'avevo in custodia anche il Kalash in coffe quello che ha che ha ucciso in sedillo le bontate e anche altre armi fucile e metraglietta e invece pistola signor Marchese ma i profitti per Cosa Nostra da quale attività provengono normalmente cioè i guadagni di Cosa Nostra dove vengono c'è affice di gioca e sozione e e e quando si facevano della costruzione in società o dei prestannomi ecco a proposito di questi prestannomi ma i guadagni questo tipo di guadagni venivano rinvestiti da Cosa Nostra sì venivano rinvestiti rientravano che so ogni se c'era da investire 10 15 milioni per dei traffici di droga ci univamo che so in 7 8 o quelle della famiglia di cui faceva parte investivano queste solde dopo da quelle che si investivano come potevano andare perse che potevano essere sequestrate nel momento in cui veniva trasportata la ruina o o veniva raddoppiato come nel momento in cui rientrava la droga dico ma questi guadagni venivano talvolta anche investiti in attività lecite si investivano nella costruzione in costruzioni ecco per quanto riguarda quello che lei sa sa riferire qualche episodio di investimento in attività lecite di profitti di Cosa Nostra allora quello che mi costa a me personalmente io durante i mesi che c'erano delle entrate che avevo io i guadagni e i traffici di giocano e anche le sigarette noi spesso incaricavamo o a Bagarella che in quel periodo era uscito dal cacere o a mio fratello facevamo sapere i fratelli Graviano di investire queste soldi perché lui a quell'epoca stava costruendo di investire queste soldi nella costruzione ma in quali costruzioni in concreto ricorda qualche caso 65-70 milioni si dico ma in quale costruzione in quale impresa di costruzione venivano investiti questi soldi se lo ricorda costruzione edifici palazzi dico il Graviano che avevano questi soldi da voi gli davano a chi per questo il Graviano c'era un costruttore un uomo di fiducia di copertura e praticamente e sa come si chiama questo uomo di fiducia non mi ricordo o se non è Giannien è nato una nata persona perché Giannien era quello che costruiva a favore di Pirosauca c'era mio zio insieme a il Tederello a Totorreina hanno fatto in via Messina Marina di veste fabbricate di veste edifici c'era c'era Mimmo Federico Mimmo Federico era un anzio che praticamente era un pestano nome nostro di vino greco Scarpuzetta i traffici ricavati della gioga venivano reciclati diciamo nella costruzione a lui signor Marchese lì ha detto Ienna Gianni se non ho capito male Giannien siccome prima io l'ho domandato se conoscevo una persona a nome Ienna Giovanni forse ho usato il nome lungo Giovanni per quello Giannien Giannien è quello che ha fatto il palazzo in via Messina Marina un grande hotel un grande abbe come sembra che sia che questo è il pestanova di Perosau all'epoca dopo si è passati i gramiani non lo so signor Marchese ma lei che rapporti aveva con Rina Salvatore ho tutti i rapporti spesso ci dormevo a casa e in quale casa dormiva con Rina Salvatore come in quale casa di Rina Salvatore dormiva in quale casa si c'è stato un periodo che dormiva a San Giuseppe Adolo c'era stato un altro periodo diciamo nel periodo dell'affidanzamento di mia sorella si era fatta la villa di parte da Amolara e un'altra volta abitava nei partiti di Ciappare in un'altra villa ai partiti di Ciappare ritornando sul punto di cui ha parlato del organizzato sequestro dei catanesi del figlio di Berlusconi ma le dissero quando erano in che momento intervendono i palermitani per bloccare quest'organizzazione no no signor Marchese è resa a riferire qualche circostanza relativa ai molini ai molini Virga una costruzione in corso di Emile che cosa è? una costruzione in corso di Emile che si chiama Molini Pecoraro o Molini Virga Molino Pecoraro si 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 interessò a Cosa Nostra per costruire per edificare per ristrutturare questo edificio no quel periodo io mi ricordo che è già quel periodo mi ricordo che è già il edificio c'era dopo è stato ristrutturato fatto non lo so quindi non sa se in una ristrutturazione di questo edificio si interessò Cosa Nostra no 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 un'altra domanda grazie 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 a tutti grazie a tutti